benvenuti ragazzi tutti quanti in questo mio nuovo video allora premetto che un gran raffreddore quindi scusate per la parlata ma mi sono preso una ghiacciata della madonna e quindi non ci posso fare nulla allora oggi ho deciso di farvi vedere un'altra filmografia che non è finita perché comunque ho lasciato andare mi sono fatto prendere dai cofanetti dalle limited dalle collector e ho lasciato per il momento perdere questa filmografia di questo attore è un attore comico italiano che mi piace parecchio e non è altro che lino banfi allora questa filmografia quindi non è completa è solo parziale vi mostro i titoli che ho recuperato fino ad ora allora questo è il primo detenuto in attesa di giudizio con alberto sordi e i 90 ovvio belli freschi dio li fa poi li accoppia questo maledetto riflesso nini tiraboucho la donna che inventò la mossa poi abbiamo zucchero miele e peperoncino la liceale seduce professori filmoni italiani la compagna di banco con lili carati che chi ha la mia età conosce sicuramente ha fatto film anche di altro genere il brigadiere pasquale zagaria ama la mamma e la polizia qua abbiamo tutti a scuola la liceale il diavolo e l'acqua santa sabato domenica e venerdì poi abbiamo cacchien truppen quattro marmittoni alle grandi manovre vai avanti tu che mi viene da ridere anche questa bellissima slip e qui l'infermiera di notte l'amogli in bianco l'amanti al pepe ecco bene si la mogli in vacanza l'amante in città albarte lo sport l'onorevole con l'amante sotto il letto occhio malocchio prezzemolo e finocchio molti film sono ancora incelofanati perché li ho presi in uno stock però su un film che comunque ho già visto e rivisto l'insegnante al mare con tutta la classe anche questo stravisto l'allenatore nel pallone abbiamo l'infermiera nella corsia dei militari la ripetente fa l'occhiolino al preside la dottoressa ci sta con il colonnello la soldatessa alle grandi manovre ricchi ricchissimi praticamente in mutande cornetti alla crema la poliziotta della squadra del buon costume il commissario logatto spaghetti a mezzanotte e per concludere vieni avanti cretino so che me ne mancano veramente tanti perché Lino Banfi ha fatto una valanga di film scusate presto ricomincerò a comprare quelli che mi mancano e magari in domani quando sarà completa rifarò vedere la filmografia con questo vi saluto ragazzi vi ringrazio perché gli iscritti stanno aumentando e sono felicissimo di questo e ci vediamo al prossimo video che sarà sicuramente un video di aggiornamento sugli ultimi cofanetti di video di blu ray da me acquistati adesso questo mese me ne devono arrivare diversi quindi aspettavo gli ultimi arrivi e poi fare un video un po più corposo vi ringrazio a tutti vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao grazie ciao grazie Grazie.